Le reazioni, quelle che ho visto fortemente critiche anche da personaggi intellettualmente autorevoli, mi fanno pensare che abbiamo colto nel segno. Perché se uno si ferma senza approfondire allora ci può anche stare la critica di alleggerimento. Ma quando si leggono invece le dichiarazioni che ho rilasciato sia io sia Flavia Sorrentino e le vere motivazioni di questo sportello, io credo che non si può che essere d'accordo. Perché non è né la caccia alle streghe, né la caccia alla querela facile, né l'allergia alla critica, né la propaganda, né il mettere sotto attacco a nessuno. È semplicemente un luogo dove ogni cittadino, così come ci sono i luoghi in cui segnalano disservizi, questo è un luogo in cui si segnalano le offese, le diffamazioni, gli attacchi, le campagne strumentali fatte nei confronti di una città e di un popolo. Su cui poi si attiva un ragionamento che fa l'avvocatura, che fa gli uffici comunali, che fa l'amministrazione, che tipo di reazione avere. Si può essere in certi casi la satira, in certi casi il sorriso, in certi casi la controinformazione, in certi casi le richieste di rettifica, in alcuni casi le azioni civili, in alcuni casi estremi le querele. Veramente mi lascia pensare che comincia a esserci forse un po' di allergia, semmai a questo profondo sentimento di orgoglio, di appartenenza, di identità, di difesa della città. Una città che finalmente si sta riscattando da sola, che finalmente sta costruendo una sua nuova forza, con le sole proprie forze e nonostante le forze avverse, comprese quelle certe volte delle campagne denigratorie. Insomma sta cambiando qualcosa. Io credo che questo è un ulteriore tassello di come si stanno facendo vacillare evidentemente degli equilibri, anche gli equilibri della normalità dell'offesa alla città, che tutto sommato devi far finta di niente se ti dicono che sei una città ancora sommersa dai rifiuti quando lo eri sei anni fa, oppure che sei colera, oppure devi scappare perché il napoletano puzzo, Vesuvio pensaci tu, oggi è cambiata.